Giacomo complimenti, finalmente questa vittoria, che senti? Come è andata la volata, con l'attacca di Affini? Finalmente dopo l'abbandono di Domenico, questa vittoria era la vittoria di Mauro, è un bel giro. Il primo giro d'Italia per noi, sfortunatamente abbiamo perso Domenico, che era una grandissima condizione. Come ho detto, per noi è importantissimo vincere, anche per dare una gioia a tutte le persone di Cubeca. Adesso sarà veramente dura, in questo giro d'Italia sto soffrendo veramente tanto in salita. E niente, vedremo. Grazie.